Credo che sia importante che la scena rap non perda, come secondo me non l'ha persa, quel potere della parola che è ancora fastidiosa. Non deve però per forza essere schierato politicamente parlato. Ma lo è, non è schierato politicamente, in Italia c'è molto questo conflitto. È socialmente rilevante il rap. Non ci deve essere schieramento politico per forza, però quel qualcosa non si deve perdere. Poi sai, nel rap secondo me c'è di brutto ancora, devi andarlo un po' a cercare. Ovviamente se tu lo cerchi nel terzo di un ragazzo di 17-18 anni, cosa gli vuoi dire? No, ma di qualcosa di sociale, di qualcosa di politico. Lo può essere imposto e poi a 17-18 anni lo riempi di brand, lo riempi di... Lo riempi di soldi, di droga, giustamente di fatto che ti verrà fuori il nostro mito lì, il pump.